è il tuo minuto eh? si si ti mancano 30 secondi dopo a cosa accende il semaforo? 10 partiamo con il destra per sinistra 4 destra per sinistra 4 in destra per sinistra 3 più in tornantone destro chiude sinistra 3 più 70 vista destra 4 più secca per sinistra Rivo per destra 3 meno meno torna poco 60 sinistra 4 più più secca Rivo sinistra via Rivo sinistra meno via smusa Rivo per attenzione destra via chiude subito 4 meno meno per sinistra via Rivo in destra 2 torna in ritardo a sinistra 3 meno meno Rivo destra via smusa per sinistra per destra 3 più 40 destra 4 meno lunga per sinistra via 70 70 sinistra 2 torna 70 attenzione ritarda destra 3 più per sinistra per destra 3 meno meno torna per sinistra 4 destra 4 meno meno secca 30 sinistra 3 meno destra 3 40 sinistra 2 torna destra 4 più più Rivo tripla stretta la terza 50 con Rivo destra via attenzione subito sinistra 2 Rivo torna apre per destra via secca in destra 3 meno meno secca doppia più aperta 50 vista sinistra 2 torna stretta per destra via 30 attenzione destra 3 meno meno brutta secca sinistra 3 meno meno apre c'è un Rivo in destra 4 più secca no per sinistra per destra 3 meno meno secca per sinistra per destra 4 meno subito sinistra 3 meno meno destra subito sinistra 2 più per destra 3 meno meno stretta 50 vista attenzione destra 4 meno smusa per sinistra 3 più per destra 3 più per sinistra 3 Rivo per destra via in sinistra in sinistra sinistra 2 sinistra 4 più più smusa in ritarda destra via smusa 40 attenzione destra 2 torna ritarda sinistra 3 meno Rivo smusa per destra 3 meno in sinistra 3 più in sinistra chiude 3 meno meno per attenzione destra via lunga in ritarda sinistra 2 più Rivo in destra 2 Sassi torna in sinistra 2 torna smusa 50 attenzione destra 3 meno meno torna per sinistra 2 più 50 destra 3 meno lunga apre in sinistra in sinistra in Rivo destra via smusa per sinistra 3 più per Dex in X via lunga 40 attenzione ritarda sinistra 2 stretta per sinistra per sinistra per destra 3 più no apre chiude poco al palo acqua interna 30 ritarda sinistra per destra 3 più lunga per sinistra 4 più più per destra 4 più 60 sinistra 3 per destra via in sinistra 3 meno stretta doppia destra destra 3 meno meno torna attenzione destra meno via e destra 3 meno in sinistra 2 torna 70 vista destra 2 torna per sinistra via secca destra 3 più no sinix via 40 sinistra 2 più destra 4 più più smusa per ritarda sinistra 4 meno meno 70 destra 3 più secca apre per sinistra via 20 destra 3 meno meno spoggia ritarda sinistra 2 più in destra via doppia subito sinistra 4 più al rai in sinistra 4 meno con rivo destra 4 più secca apre per sinistra via in destra 4 più flap 40 40 40 vista 40 vista ritarda poco sporco destra 4 meno meno lunga corda alla siepe poco sporco sinistra 4 ciao sinistra 4 meno meno in destra meno meno per sinistra via 30 chiude 2 destra 3 più sinistra 3 sboggia per destra per destra 3 meno apre 70 sinistra 2 destra 2 gira per sinistra 3 più più sboggia per destra 4 per sinistra 3 meno meno 60 destra 4 meno meno secca per sinistra via destra 4 doppia in sinistra 4 più per Dexit X per inversione destra 60 sinistra 3 più destra via in sinistra meno meno via flap per destra per sinistra 4 più secca per destra via chiude 3 al sindaco per sinistra 4 meno 70 alla chiesa ritarda sinistra 4 più più doppia chiude subito tornante sinistro Sparco in destra in destra 3 più più lunga destra 3 meno meno in sinistra 4 più più smusa per destra 4 meno meno secca in sinistra via lunga alla casa sinistra via 40 sinistra 4 più più subito destra 3 meno meno brutta sinistra 3 meno meno brutta per destra 4 più più doppia 60 sinistra 4 meno meno per destra via in sinistra 4 più più secca 20 tornante destro del dritto tornante sinistro sinistra 3 meno secca in destra 3 meno torna pela 70 tornante destro per sinistra 4 lunghissima chiude 3 meno meno 30 c'è il buco sinistra meno via lunga in destra 4 meno meno stretta per sin x via sinistra meno via secca destra meno via pela attenzione sinistra meno via subito destra 3 più per sinistra 3 meno per destra via lunga doppia subito sinistra 4 meno anticipa destra 4 meno per sinistra 3 secca 40 attenzione sinistra 4 smusa per destra 4 meno meno sbogia per sinistra 3 meno meno secca brutta 60 destra 4 meno in sinistra via sinistra 4 più doppia aperta subito destra 4 meno no per sinistra 4 più doppia per destra 4 meno no doppia attenzione sinistra subito destra 3 chiude 2 destra per sinistra 4 più più secca chiude 3 più secca per destra via doppia per sinistra via 50 tornante destro per sinistra via doppia attenzione destra via 30 sinistra 3 più per destra 2 secca in sinistra 2 torna 40 alpinca destra 4 più secca per sin x via doppia in destra meno via 60 tex in x via rifo 80 attenzione al rosso destra 4 per sinistra 3 più più rifo in destra 3 più in sinistra per destra 2 apre smusa in sinistra via chiude 3 meno meno sinistra subito destra 4 più 50 attenzione sinistra subito destra 3 meno meno in sinistra 3 destra 3 più in sinistra via 30 con rivo attenzione sinistra 3 meno meno no per destra 2 torna in sinistra con rivo chiude tornante sinistro 20 sinistra 20 tornante destro tornante sinistro sinistra 3 meno meno stretta in destra 3 meno per sinistra meno via secca per destra via sinistra 4 meno secca per destra 3 sinistra 3 meno meno attenzione qua destra 2 per sinistra 90 gradi sinistra via per destra 4 meno sin x via 120 con dosetto attenzione ai pali sinistra via per stretto dex sin x 4 meno 50 attenzione destra 4 meno per sinistra meno via smusa a lungo di 100 metri dex in x meno via no strette e tornante destro anche lui no dosso che è 50 ci volava dex in x meno meno via in destra 4 meno meno in sinistra 3 più più lunga subito destra 2 per sinistra via chiude 4 meno destra via sinistra meno via doppia per destra 4 più più tieni 20 tornante sinistro qualcuno che ha buccato qua mi sento odore sì sì non siamo noi c'è il fumo davanti andalo lì sin x dex via 40 tornante destro no sinistra via ritarda destra via attenzione 70 vista destra subito tornante sinistro no destra via in sinistra via attenzione sinistra stretto lavori terra e tornante destro no 80 vista sinistra via 70 destra meno via 50 attenzione sinistra 40 rai tornante sinistro sta perdendo i pezzi per destra via 50 tornante destro no sinistra via doppia stretta attenzione 60 i birri tornantone sinistro tornantone destro stringi al muretto 100 100 attenzione sinistra via dosso no l'hai visto si destra 3 meno meno brutta per sinistra 3 lunga subito destra 1 per tornante sinistro molto sporco vai a vista al cartello destra per sinistra 4 meno secca e destra subito sinistra 3 meno secca in ritarda sinistra 3 meno meno chiude smusa per destra per sinistra 2 più più secca in destra 4 più più rivo lunga chiude al fine muro per sinistra 20 chiude 3 più apre destra 4 meno meno apre chiude 3 meno per sinistra meno via 50 destra 3 meno meno sinistra 2 meno meno torna poco per destra 3 meno meno no per sinistra 2 in destra 3 poco lunga 70 attenzione sinistra 2 più torna destra in sinistra 3 meno smusa secca per destra 4 più più 70 attenzione ritarda sinistra 4 meno meno brutta smusa per destra via lunga acqua 30 sinistra 2 torna in destra 3 meno per sinistra in tornante destro sporco in attenzione sinistra 2 gira smusa in destra via chiude 4 più no in sinistra 3 meno apre 100 tornante destro doppia attenzione al muro sinistra meno via per destra 3 meno lunga 40 destra per tornante sinistro smusa destra via per sinistra 4 meno meno 20 tornante destro intornante sinistro largo smusa per attenzione sinistra 4 brutta doppia smusa per tornantone destro no 70 ritarda destra 4 meno meno brutta attenzione ancora sinistra meno via smusa per destra via lascia subito destra 3 meno meno secca intornante sinistro stretto sinistra 4 più più lunga e sporco tornante destro destra via doppia no 40 tornante sinistro 60 vista attenzione sinistra per tornante destro secco per sinistra via destra meno via chiude 4 meno meno smusa per sinistra 4 più doppia attenzione ritarda destra 3 meno meno smusa brutta per sinistra 4 più più per destra via molto rotto 40 per la ringhiera sinistra 4 meno meno abbiamo preso un altro 48 quello che aveva buccato era il 47 eppure io cioè tu l'hai preso oggi adesso a vedere siamo saliti malissimo ecco appunto io ho visto non teneva ancora ecco non teneva bravo poi di là andava meglio non so se ero io e poi ho rallentato ancora occhio che non facciano casino questi imbranati noi siamo il 50 abbiamo passato il 47 è andato beh io 20 17 il 48 gli hanno già segnato 21 tu hai il tempo allora qua 20 17 pronto a saltargli addosso perché di sicuro sbagliano come si è andato 20 e 41 chi a noi no vedi che danno l'altro no eh no 20 17 20 17 ok scusa andiamo grazie ho visto il primo passaggio io 20 41 il primo giro 20 17 adesso non ho visto i tempi degli altri ce n'è uno solo sotto di noi ma non ho visto il numero perché ho troppo preso a vedere il nostro diciamo che abbiamo la seconda parte a ritmo infuocato porca vacca dicendo da piano perché cosa ne fotte cosa vuole perché c'è la portiera aperta ma come ci divesse uno spiazzale qui davanti no si è tirato non è tirato che cos'è no è mollo è l'asso è mollo si adesso ci fermiamo e mettiamo dietro i caschi si e dove mettere il cric eh si ti saluto